L'obiettivo della promozione in Serie B è stato quasi toccato con mano e fallito d'un soffio proprio sulla linea del traguardo. Rincuora però il fatto che non fosse stato indicato come traguardo programmato. Ma nella prossima stagione non sarà così, perché la Virtus Ragusa punta decisamente al salto di categoria, condizione necessaria per porsi in sintonia con il glorioso passato. Sicuramente negli ultimi due anni abbiamo raggiunto, ottenuto risultati non solo importanti ma anche inesperati. La differenza è che quest'anno lo stiamo programmando, che forse è quello che ad esempio ci è mancato l'anno scorso. Quindi speriamo e pensiamo che una migliore programmazione dell'attività, anche se comunque l'anno scorso non c'erano le condizioni, mentre quest'anno c'erano tutte le condizioni per poter programmare una stagione importante. L'altra nostra forza ovviamente nella programmazione è proprio questa, che oltre ad aver trovato uno sponsor, un primo sponsor, la nostra forza sono i nostri giocatori, che nessuno ce li toglie, quindi abbiamo un organico già importante che va solo migliorato. Siamo alla ricerca di un play e di un alla grande. Non riesco a parametrare in questo momento il livello delle squadre, credo che comunque due, tre o quattro squadre competitive ci saranno. Poi lavorare dall'inizio bene, penso che dobbiamo provarci a cercare di lavorare per migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Ripeto, non sarà una cosa semplice perché non è che sulla carta non si fa niente, bisogna lavorare e giocare in campo. Come fanno, d'altronde, anche gli altri club di Serie C. Chiaro che ancora stiamo per completare la squadra, quindi da qua in poi si vedrà. Quest'anno, rispetto a tutti gli altri anni, partiamo già con l'idea di voler provare ad arrivare alla promozione. Gli altri anni siamo sempre partiti prima con un po' di sguardo diretto alla salvezza, poi abbiamo aumentato l'obiettivo ai play-off, poi una volta siamo resi conto di poter provare a salire e abbiamo provato il traguardo più importante, raggiungere il traguardo più importante. Quest'anno iniziamo subito con lo sguardo diretto al traguardo più importante e vediamo, insomma, noi ce la metteremo tutta sicuramente. Presentata ieri anche la nuova divisa, quest'anno anche un nuovo abbinamento. Abbinare Toyota e TD Carre a questa squadra secondo me è importante. Puntiamo di guadagnare tanto e di arrivare un po' più avanti, quindi dare una forte mano a questa squadra che se lo merita, perché è una squadra puramente ragusana, anche se quest'anno potersi prenderemo delle punte che ci danno aiuto per la squadra, per avere un finale che dia lustro alla scelta finale. E quindi penso proprio di arrivare a una promozione.